Musica Aumento dei contagi dopo i 508 di ieri, altri 366 oggi, è impennata dei ricoveri ospedali sotto pressione in tutta la Calabria, dalle prese con la terza ondata, cresce il numero di pazienti anche nelle terapie intensive, i decessi sfiorano quota 800. Si procede a rilento con la somministrazione delle fiade e le prenotazioni sulla piattaforma online, il direttore sanitario dell'ASP di Cosenza Rizzo e i nostri microfoni dice, arrivano pochi vaccini. Da domani la Calabria è zona rossa, la preoccupazione dei gestori di attività costretti ad abbassare la sala cinesca, come faremo? Celebrazioni in tutte le chiese delle diocesi calabresi, il messaggio di Monsignor Nollè per la Domenica delle Palme, la pandemia non deve farci dimenticare chi siamo. Anche la nostra regione, celebrata la giornata internazionale dei teatri chiusi da un anno, l'appello degli operatori del settore. Buonasera dalla redazione del TGTN in apertura di questa edizione, il preoccupante aumento dei contagi nella nostra regione, l'allarme arriva soprattutto dagli ospedali per l'impennata di ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva. Lo dicono i sanitari, in questo momento siamo nel pieno di una terza ondata. 1.076 i tamponi effettuati in provincia di Cosenza nelle 24 ore, 262 i soggetti positivi riscontrati da processamento nei tre laboratori attivi sul territorio, quello della virologia dell'Annunziata, quello di Rossano e laboratorio all'interno del presidio militare di Vagliolise. Una percentuale altissima, il 24,3%, questa volta sul numero di campioni relativamente importante. C'è stata un'ulteriore impennata nel contagio, ci sono 262 nuovi casi positivi, tre decessi, 202 ricoveri. La situazione è preoccupante, io credo che siamo in terza ondata piena. La terza ondata incide naturalmente anche sulla pressione ospedaliera. Ieri 25 pazienti orbitavano tra la tenda di osservazione e il protosoccorso, scene già viste solo nel mese di novembre. Il Covid conquista spazi all'interno dell'ospedale dell'Annunziata e anche il reparto di medicina è stato convertito per accogliere pazienti contagiati che necessitano di cura ospedaliere. Situazione al limite anche al pugliese di Catanzaro, 60 i posti disponibili in malattie infettive e medicina Covid, 9 in terapia intensiva, pochi i posti rimasti disponibili. Ai pazienti provenienti dal territorio provinciale si sono aggiunti altri trasferiti da strutture extraprovinciali. Noi avevamo una prima ala che già funzionava con posti letto attivati per la medicina Covid, ma l'esigenza che si è venuta a verificare in questi ultimi giorni per i contagi, la curva dei contagi in salita che si è avuta nella provincia di Cosenza, ci ha costretto ad aprire anche l'altra ala della medicina Covid, dove erano in quiescenza 12 posti letto che sono stati attivati immediatamente per far fronte all'esigenza. Sotto pressione anche il GOM di Reggio Calabria, dove sono ricoverati 82 pazienti, di cui 11 in terapia intensiva. Continua ad essere elevato il numero dei positivi nelle ultime 24 ore, nonostante ci siano mille tamponi in meno, ed è la provincia di Cosenza a far registrare il picco fra i territori provinciali. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 620.481 soggetti, più 2.123 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 46.110, più 366 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi a Cosenza 192, a Catanzaro 38, a Crotone 57, a Vivo Valencia 18, a Reggio Calabria 61, da altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 377 nelle parti di malattie infettive, 36 nelle terapie intensive, 4 vittime nelle ultime 24 ore, 799 in totale dall'inizio della pandemia. Campagna vaccinale che potrebbe andare sicuramente meglio, anche se ci fossero più vaccini disponibili. Lo dice anche il direttore sanitario dell'ASP di Cosenza, Martino Rizzo. Siamo vincolati a una distribuzione che per il momento non asseconda un'organizzazione che invece si è messa, a quanto pare, al ritmo giusto. Ci sono le carenze organizzative, riconosciute e si spera in via di risoluzione, ma la campagna vaccinale in Calabria stenta anche perché finora nella nostra regione non sono arrivate le dosi necessarie per andare a regime e quando la macchina ha preso a girare a buon ritmo si è subito inceppata per mancanza di dosi. Così molti over 80 attendono la seconda dose, tanti altri, la prima, con centri che non sono ancora stati inseriti nella mappa delle vaccinazioni. Le 6.000 dosi fornite settimanalmente alla vasta provincia di Cosenza non sono certo la quantità sufficiente per coprire in breve tempo la popolazione dato che oltre agli over 80 si stanno vaccinando anche le persone estremamente fragili. C'è da sperare che dei 3 milioni di dosi in arrivo tra lunedì prossimo e Pasqua in Italia ne venga destinata una buona quota alla Calabria, ancora ultima in gradatoria. Il generale Figliuolo ha promesso di raddoppiare la fornitura e già dalla prossima settimana giungeranno 42.000 dosi tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca, quantità che dovrebbero essere sufficienti per completare in breve tempo le prime fasi della campagna vaccinale? La campagna vaccinale dell'Asp di Cosenza sta proseguendo con gli ultraottantenni. Abbiamo vaccinato approssimativamente il 60% di questa popolazione. Il problema attuale riguarda essenzialmente il numero di dosi. Infatti dovremmo somministrare la seconda dose a una parte consistente della popolazione oltreottantenne già vaccinata, approssimativamente circa 14.000-15.000 persone. Il numero di dosi che però viene garantito all'Asp di Cosenza è quello consueto di circa 6.000 dosi a settimana. Di queste dosi, 1.200 sono riservati alle nuove vaccinazioni, cioè a tutti quelli che si prenotano sulla piattaforma regionale. Il resto viene somministrato per quanto riguarda le seconde dosi. Ovviamente se avessimo una fornitura maggiore potremmo risolvere a breve il problema evitando i ritardi, anche se di ritardi gravi non si può parlare perché la seconda dose di vaccino può essere somministrata tra il 21esimo e il 40esimo giorno. Però sarebbe bene completarla al più presto possibile. Questo potrebbe essere fatto se avessimo un numero di dosi sufficienti visto che l'attuale organizzazione dell'Asp consente di somministrare circa 3.000 dosi al giorno. Per quanto riguarda la piattaforma ha rappresentato certamente un elemento di trasparenza e ci aiuta. Però devo dire che le agende attualmente inserite in piattaforma, cioè il numero di soggetti che si possono prenotare, sono estremamente limitate e ammontano a circa 1.200 a settimana. Questo comporta che purtroppo chi si prenota può non trovare posto, può dover scegliere un posto lontano dal proprio domicilio. E questo noi lo vorremmo evitare. Come si eviterà? Si eviterà ampliando le agende, quindi aumentando il numero di vaccini che si potranno fare nelle sedi attualmente inserite e l'azienda sanitaria ha anche altre 20 sedi pronte per essere inserite dove potranno essere fatte vaccinazioni. Secondo quando ci è stato assicurato dal generale Figliuolo nella recente visita, la Calabria dovrebbe essere attenzionata nei prossimi giorni e dovrebbe ricevere un numero maggiore di vaccini. Se così sarà, probabilmente riusciremo a completare il ciclo vaccinale degli aventi diritto e a iniziare il ciclo vaccinale dei nuovi casi nel giro delle prossime tre settimane. Torniamo ad occuparci di quanto è accaduto ieri mattina nel reparto di malattie infettive a Cosenza. Interviene il sindacato, la Federazione Sindacale dei Medici Uniti, che definisce la situazione drammatica per chi è in prima linea da mesi nella battaglia permanente per salvare vite umane e non solo contro il Covid-19, chiedendo maggiore sicurezza per gli operatori. I vetri infrantumi della porta interna al cortile del reparto di malattie infettive a Cosenza rende l'idea dei momenti di tensione che si sono vissuti ieri mattina all'interno del nosocomio Bruzio, assediato dalle forze dell'ordine per ore. Una situazione che non è degenerata, grazie soprattutto alla prontezza e all'esperienza del vigilantes che si è trovato da solo all'inizio a fronteggiare la disperazione della famiglia Rom dopo la morte di un congiunto ricoverato all'annunziata. Massimo Amendola dapprima ha negato l'ingresso con l'auto ai parenti del paziente defunto che con vehemenza chiedevano di entrare in ospedale. La guardia giurata, in attimi che sono sembrati eternità, ha avvisato i medici e il personale sanitario di non lasciare il reparto. Il vigilante, nonostante le pressioni, è riuscito ad allertare il 113, il 112 e la Guardia di Finanza sul posto, intanto per caso stava transitando un'auto di vigili urbani che sono intervenuti chiedendo rinforzi. Una mattinata difficile su più fronti che è terminata con il trasporto della Salma in obitorio scortata dalle forze dell'ordine. Auto in fiamme questa mattina sulla Statale 107 nei pressi della Galleria Crocetta in direzione Cosenza, una Citroen per causa di incorso d'accertamento ha preso fuoco sul posto una squadra di vigili del fuoco addomato in rogo, nessun ferito fortunatamente, disagi al traffico rimasto bloccato in entrambe le direzioni, sia verso Paola che Cosenza. Durante le operazioni di spegnimento, la circolazione dopo la rimozione dell'auto è tornata regolare. Ma domani la Calabria sarà in zona rossa, la preoccupazione dei gestori delle attività costretti ad abbassare la sala cinesca, ma come faremo? Ultima domenica prima del lockdown a Cosenza, il tiepido sole di primavera in onda l'isola pedonale seppur nel rispetto delle regole anti-covid, in molti ne approfittano per la passeggiata nella mattinata di festa. Da domani sarà cinesca abbassata e nuovo fermo per le attività commerciali già molto provate. Nei bar oggi aperti la difficoltà di chi non sa cosa farà già domani. Non va bene, non va bene assolutamente, perché si poteva continuare col giallo, però si poteva continuare non che fino alle 6 si poteva lavorare e poi neanche più da asporto, non esiste, perché le piazze come anche a Cosenza ieri sera c'era piena di gente e io ho dovuto chiudere, non ho più lavorare né dare i caffè appunto da asporto. Quindi c'è una contraddizione con Dino e così non si arriva da nessuna parte. Domani saremo zona rossa, non si sa ancora perché ho letto su Facebook che Spirli non so se l'asporto si può fare o non si può fare. Fatto sta che non va bene. I soldini non ne arrivano, perché soldini non ne arrivano, con il governo Conde qualcosa è arrivato, con il governo Draghi non è arrivato nulla. Siamo così, stiamo andando avanti veramente con tanti sacrifici ma la voglia si sta spegnendo piano piano. Purtroppo siamo in difficoltà, siamo in difficoltà e non se ne vede una luce, non se ne vede un'uscita. Da domani vediamo cosa dobbiamo fare, non abbiamo capito bene se l'asporto c'è o non c'è, perché prima leggevo un'ordinanza di Spirli e sembra che l'asporto non ci sia, ci sia solo il domicilio. Io sono per rispetto delle regole, però le regole bisognerebbe rispettarle tutte. Voglio vedere se domani ci sono i controlli per chi passeggia su Corso Mazzini oppure no, perché se siamo in zona rossa dovremmo stare a casa. Vediamo un po' l'andamento. L'ordinanza firmata dal Ministro Speranza resterà in vigore in Calabria fino al 6 aprile, poi si valuterà sui dati, si procede per step, tutti concordano, priorità è la salute ma senza sostegni e la possibilità di lavorare come si fa, la domanda che pongono. Questione asporto appunto che è stata chiarita, l'ordinanza prevede che resta consentita la sola ristorazione con consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, quindi consentita la ristorazione con asporto fino alle 22. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3, chi esercita queste professioni sa a quale codice ci si riferisca, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18. Pertanto, così come richiamato nell'ordinanza in oggetto, rimane consentita con le limitazioni orarie della norma citata, l'attività dei servizi di ristorazione sia da asporto che a domicilio. Parliamo di agricoltura, stanziati 2 milioni per agroindustria e 1 milione per le aziende vitivinicole. 2 milioni di euro che andranno ad aumentare per agroindustria, trasformazione di prodotti agricoli e quanto ha stanziato l'assessorata all'agricoltura della Regione Calabria diretto da Gianluca Gallo. Un'agrodatoria su un bando denominato 4-2 per agroindustria, trasformazione di prodotti agricoli. Un bando che viene fuori a tempo di record, chiuso lo scorso 29 gennaio, che ha emesso l'agrodatoria nei giorni scorsi a distanza di appena un mese. I tempi veloci di risposta da parte della burocrazia rispetto a richieste giuste da parte degli imprenditori. Stanziamo per ora 2 milioni di euro, ma nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, con le somme rimedienti dalla programmazione 21-27, stanzieremo ulteriori risorse per avanzare anche nell'agrodatoria e quindi dare risposta ad altri imprenditori agricoli che hanno fatto domande. 48 sono invece le domande ammissibili per la misura OCM Vino, con investimenti per oltre un milione di euro. Sosteniamo il comparto promuovendo competitività e qualità, così l'assessore Gallo. È una risposta ulteriore che noi diamo al mondo vitivinicolo, che è un mondo in fermento, in Calabria, che è un mondo che in Calabria ha investito tanto con risultati eccellenti. E credo che questa risposta sia una risposta adeguata, ma nei prossimi mesi, anche insieme all'assessore al turismo Orso Marso, daremo altre risposte, cercando un connubio importante fra turismo e agricoltura nel settore vitivinicolo attraverso i percorsi del vino e i percorsi delle cantine calabresi. Celebrazioni in tutte le chiese delle diocesi calabresi, il messaggio di Monsignor Nolè per la Domenica delle Palme, la pandemia non deve farci dimenticare chi siamo. Oggi normalmente è dedicata alla pace, Gesù che viene portato in trionfo a Gerusalemme e sembra che soddisfi le attese della gente. In realtà lui sta dando un esempio di come è importante rimanere se stessi, anche se la folla muta, di fatti dopo qualche giorno la folla chiederà la sua condanna. Chiederà la condanna a morte e poi lo accompagnerà sbeffeggiandolo fino alla croce. Allora chi sceglie Cristo non può ascoltare il mondo, non può ascoltare la folla. Noi siamo popolo, popolo di Dio e il Signore con questa pandemia, con questa restrizione ci sta facendo comprendere che bisogna essere noi stessi, essere fedeli a ciò che abbiamo ricevuto ma soprattutto non stare con il mondo, cioè non avere il pensiero del consumismo, il pensiero dell'arrivismo, il pensiero di essere di sopra degli altri, ma cercare di accogliere il Signore e il Salvatore che viene nel cuore e ci porta non sulla croce, non nella tomba, ma alla risurrezione. E questo è l'augurio di oggi. Anche nella nostra regione è celebrata la giornata internazionale dei teatri chiusi da un anno l'appello degli operatori del settore. Sul palco senza spettatori, anche dal Teatro Comunale di Catanzaro, la diretta per la giornata internazionale dei teatri chiusi, lo ricordiamo, a causa della pandemia da un anno. La data scelta non a caso quella di ieri, sabato 27 marzo, perché c'era stata l'illusione, dicono tanti operatori, che qualcosa sarebbe cambiato. C'era stato, scrivono, un passo in avanti con una timida riapertura, ma ciò non è avvenuto. Anzi, molte regioni, tra le quali la Calabria, proprio ieri, ha annunciato il passaggio in zona rossa. Il teatro e il mondo dello spettacolo sono anche attività che devono fare i conti drammaticamente con la pandemia. Il tracollo economico, storie e tante storie quotidiane di chiusure e abbandoni. Al Teatro Comunale di Catanzaro, Francesco Passaro, Elisa Condello, Francesca Guerra, Michele Grillone e Stefano Perricelli sono saliti sul palcoscenico e in diretta sui social hanno dato vita a un piccolo spettacolo fatto di monologhi o brevi parti di grandi testi del teatro italiano e calabrese. L'emozione dei testi classici, Pirandello, Proietti, Edoardo, messi in scena dalla compagnia Incanto, quest'ultima, come tutte le altre, pronte a ripartire appena possibile. Il teatro non vuole morire e nella giornata internazionale del teatro il messaggio è stato chiaro. Inaugurato a Luzzi in piena pandemia il Museo Etnografico, iniziativa promossa dal Comune e dalla Proloco, obiettivo recuperare storia e tradizione del territorio. A Luzzi, situata sulla fascia della Prisila, sul lato destro della Valle del Crati, l'antica Tebe Lucana, fondata nel IV secolo a.C., attestata nei documenti del XIII secolo come Castrum Luci in Valle Gratis, deve il suo nome con molta probabilità alla famiglia Norman, di cognome De Luci, Luci o De Lucis, a seguito di Roberto Luiscardo, che la ebbe in feudo, è nato il Museo Etnografico, uno specchio in cui una comunità può riconoscersi, come diceva lo studioso francese Georges-Henri Rivière, leggendo la propria origine, la propria identità, il proprio futuro e dello strumento con cui essa può comprendere i problemi del suo avvenire. Quasi quattro anni che abbiamo lavorato su questo museo, avremmo dovuto inaugurarlo lo scorso anno, in marzo, purtroppo questo problema della pandemia non ci ha permesso di portare avanti l'inaugurazione. Però noi ci tenevamo a che il territorio vedesse quello che noi abbiamo fatto in questi anni, quindi abbiamo pensato di incontrarci con questo percorso televisivo. Il museo si trova allocato nello stabile che ospita la proloco Terra dei Luci, capitanata dal vulcanico presidente Enzo Garofalo, ente che ha voluto fortemente, insieme alla locale amministrazione, guidata dal sindaco Umberto Federico, questo centro di cultura. Oggi, come dicevo l'altra volta, al presidente della proloco, che ringrazio qui pubblicamente, scriviamo una pagina importante nella nostra comunità, perché finalmente vedrà alla luce il museo etnografico, in piena pandemia, tra l'altro, quindi uno sforzo notevole da parte della proloco e dei volontari per realizzare tutto ciò. Io ho detto all'inizio del mio mandato, circa quattro anni fa, che la proloco doveva rappresentare il braccio operativo per quanto riguarda gli eventi culturali dell'amministrazione comunale. E così è stato e oggi è la dimostrazione di tante iniziative con il culmine e il risultato di questo bellissimo obiettivo. E adesso le previsioni del tempo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un vasto campo d'alta pressione sta espandendosi sul Mediterraneo occidentale, pertanto anche sulla nostra penisola la pressione risulterà in aumento. Nei prossimi giorni, quindi, preverranno condizioni di tempo stabile, al netto di piccoli disturbi, con temperature che aumenteranno rientrando su valori consoni per il periodo. Passiamo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani al mattino cielo sereno, poi si verificherà il passaggio da nord di nuvolosità alta e stratiforme e contestualmente si formeranno nubi sulle aree interne, soprattutto del Cosentino e Catanzarese, con possibilità di isolati piovaschi su Pollino e Sila. Temperature in ulteriore lieve aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani i venti continueranno a soffiare deboli a regime di prezza e i mari permarranno quasi calmi o poco mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona domenica.